I lavori di ripristino dell'arenile adiacente alla prodo delle gatte a Santa Maria di Castellabate e sotto la chiesa sono stati conclusi in anticipo. A farlo sapere il sindaco facente funzioni Luisa Maiuri. Da oggi 2 luglio la spiaggia in questione potrà essere riutilizzata per la balneazione. Disposta la revoca dell'ordinanza 33 del 29 giugno 2021 che ne sospendeva temporaneamente la balneazione al fine di permettere l'esecuzione delle operazioni in sicurezza. Numerose erano state le critiche mosse all'amministrazione comunale a causa dei lavori. Ruspe in azione, transenne e divieto di balneazione sulla spiaggia di Marina Piccola a Castellabate hanno creato non pochi disagi ai turisti e ai cittadini. I lavori in questione, come riporta l'ordinanza sindacale, si sono resi necessari per il ripristino dell'arenile riguardo il porticciolo delle gatte al fine di permettere la navigabilità e l'ormeggio delle imbarcazioni ed evitare l'erosione costiera. L'antico approdo, l'utraverso o porta delle gatte, finalmente è stato liberato dalla sabbia che da alcuni anni ne aveva fatto perdere la bellezza originaria, trasformandolo impropriamente in un luogo poco decoroso, scrive il sindaco facente funzioni Luisa Maiuri. Oggi gli restituiamo il suo fascino e il suo ruolo. Nel contempo abbiamo riconfigurato la spiaggia sotto la chiesa che si è notevolmente ampliata. Il disagio, le polemiche di ieri le consegno al passato e guardo avanti, continua Maiuri. Nei prossimi giorni vi darò informazioni sul completamento del progetto dei lavori di erosione costiera a Marina Piccola.